Un saluto a tutte e a tutti, un piacere immenso essere qui anche quest'anno a questo evento importantissimo sull'innovazione nel mercato assicurativo. Io sono Alessandro Faes, sono ricercatore all'Osservatorio Fintech Insurtech del Politecnico di Milano. L'Osservatorio è un po' il punto di riferimento in Italia per i dati e per le ricerche nell'innovazione nel mercato assicurativo. Noi questi dati li raccogliamo, li analizziamo come centro di ricerca ma poi li discutiamo sempre ogni mese, ogni giorno con tutti quelli che sono più interessati, i protagonisti dell'innovazione, quindi le aziende. E proprio per questo io vorrei cogliere questa occasione per portarvi alcuni dati, alcune evidenze e considerazioni dell'Osservatorio rispetto ai trend, rispetto al stato attuale del mercato assicurativo e rispetto ai trend futuri. Inizierei da quello che è un po' il protagonista dell'innovazione, che sono le start-up, le insurtech. Io qui vi ho portato una storia di quella che è stata la crescita delle insurtech in Italia. Come vedete c'è stata una crescita molto forte nei primi anni 2010 che poi di più di recente è rallentata. Ad oggi abbiamo 120 in realtà insurtech in Italia, che sono 8 in meno rispetto all'anno precedente. Cosa è successo? È successo che proprio l'ultimo anno, dall'ultima rilevazione, ne sono nate solo 4 rispetto alle 13 o 20 negli anni precedenti. E quindi queste 4 non hanno controbilanciato poi quelle che naturalmente escono dal mercato. Quindi quello che si nota, si vede dal mercato delle realtà insurtech italiane è una sorta di difficoltà, quindi un numero in diminuzione. Numero in diminuzione che non c'è, non si vede, se si vanno a vedere invece quelli che sono i dati finanziari delle insurtech. Proprio nell'ultimo anno, nell'ultima rilevazione, sono stati raccolti 53 milioni di euro da questi attori, dalle insurtech italiane. Per raggiungere poi nel corso di tutta la storia delle insurtech italiane la cifra di 420 milioni. Ovviamente sono dati che un po' impallidiscono se confrontati con quelli di altri paesi europei, ma che mostrano comunque una certa crescita, una certa dinamicità del mercato italiano e che di fronte anche alla riduzione del numero di start-up vanno a definire, a dare l'idea di un trend di un certo consolidamento e maturazione del settore, con chi investe, che sta dirigendo gli investimenti verso quelle che sono un po' le realtà che portano maggior valore aggiunto al mercato. I protagonisti di questi investimenti, dall'altro lato, chi sono? Sicuramente i venture capital che stanno guidando da questo punto di vista, ma ci sono, c'è anche quello che è il secondo protagonista dell'innovazione, che sono le compagnie assicurative. Noi tutti gli anni, in collaborazione con proprio l'Italian Insurtech Association, andiamo ad analizzare quelle che sono le prospettive, gli stati dell'innovazione negli attori, diciamo, incumbent, quelli più tradizionali, quindi le compagnie assicurative. E dall'ultima rilevazione, quello che emerge, sono dati sostanzialmente stabili o in crescita. Quindi, guardandoli da un punto di vista un po' più superficiale, infatti vediamo gli investimenti in start-up, per quanto bassi, per quanto siano solo 10 milioni di euro da parte delle compagnie assicurative, sono rimasti invariati sull'anno precedente, quindi non sono diminuiti. Questo consideriamo rispetto a uno stato macroeconomico molto complicato per gli investimenti, in cui sono aumentati i tassi, si è ridotta la liquidità e quindi gli investimenti sono diventati sempre più costosi e difficili. Quindi investimenti invariati in start-up, investimenti molto in aumento rispetto ai progetti interni, sono aumentati quasi più che raddoppiati gli investimenti in progetti interni delle compagnie assicurative e una crescita molto alta di quelle che sono le partnership industriali, chiamiamole, quindi le collaborazioni che ci sono tra compagnie assicurative e start-up, realtà più innovative nel mercato insurtech. Andando però ad analizzare più a fondo questi dati, quello che abbiamo visto sono state evidenze un po' meno positive. Quello che sta succedendo, infatti, è che le compagnie più grandi hanno ridotto o comunque non aumentato gli investimenti. Quindi questa stabilità, questa crescita è dovuta quasi interamente a quelle che sono le compagnie più piccole, che da un lato è positivo perché si vede che ci sono più compagnie interessate al mondo dell'innovazione, dall'altra se non si muovono le compagnie assicurative più grandi è evidente che il beneficio verso il settore, verso tutto il mondo assicurativo è minore. Per questo l'index che abbiamo presentato, quindi questa misura di sintesi dell'innovazione nel mondo assicurativo, è risultato sotto la sufficienza, quindi un dato universitario, come lo diamo noi in trentesimi, di 14 punti su 30. Ora, questi dati ci mostrano una serie di evidenze che da un lato danno l'idea di una difficoltà del settore assicurativo legata al contesto macroeconomico, dall'altra fanno mostrare una sorta di maturazione e consolidamento nell'innovazione del mercato assicurativo. Ci resta questo dualismo, noi l'abbiamo visto quest'anno e lo stiamo vedendo anche nelle evidenze, nelle ultime ricerche di questi ultimi tempi. Resta però anche da fare una considerazione, una considerazione su quelle che sono le peculiarità del mondo assicurativo. Ne vado ad elencare tre per darvi un po' quello che succederà secondo noi nel futuro. Sicuramente il tema del canale, noi andiamo sempre a vedere cosa vogliono fare, cosa stanno facendo in ambito assicurativo i consumatori finali e vediamo che c'è una buona quantità che utilizza canali digitali per attivare polizze o modificare polizze assicurative. D'altra parte, anche in questo 59 o 62% di consumatori che utilizza prevalentemente canali digitali, resta fortissimo poi il ruolo di intermediazione dell'agenzia. Quindi quello non va mai dimenticato. Il ruolo di intermediazione dell'agenzia è ancora più forte se andiamo a vedere l'ambito business, quindi l'ambito delle piccole e medie imprese italiane che utilizzano e attivano effettivamente polizze assicurative con le compagnie. Solo il 34% dice che lo fa online. Quindi il ruolo dell'agenzia, il ruolo, la differenza tra i diversi tipi di consumatori che siano business da un lato o consumer e retail dall'altro e poi chiaramente la differenza tra le varie polizze. È chiaro che il digitale spinge di più su polizze più semplici come quelle sui viaggi oppure su più classiche come quelle di moto e auto, spinge meno, è sostanzialmente protagonista ancora la parte fisica dell'agenzia nell'ambito più legato a quelle della vita, le polizze vita, le polizze salute. Quindi una situazione che abbiamo visto sicuramente in divenire, una situazione del mercato assicurativo duale che da un lato vede difficoltà, dall'altro vede consolidamento, una situazione che va analizzata da ogni punto di vista ricordando queste specificità che ho appena elencato, è una situazione che però mostra grandissime opportunità per il futuro. Io vi lascio con un ultimo dato che è quello sull'embedded insurance considerato da parte dei consumatori. Quindi ci sono consumatori sempre più predisposti a rivolgersi ad accettare offerte di altri tipi di attori quando vogliono lo stringere e attivare una polizia assicurativa. E solo il 35% non prende in considerazione nessun attore. ovviamente questo è guidato da temi più semplici come siti di viaggi, concessionari auto, quindi i momenti in cui si acquista un prodotto, un servizio e si attiva una polizia insieme, ma è legato anche a polizie più complicate, quindi quelle legate alla salute magari in farmacia, quelle di fornitori attivate tramite un fornitore gas e luce all'attivazione del servizio. Questo cosa significa? Il ruolo delle compagnie assicurative sicuramente resterà nel futuro perché poi il produttore, la fabbrica prodotto resta in capo ad un soggetto autorizzato, ma quello che può succedere è una disintermediazione dell'agenzia o di quelli che sono i canali tradizionali della compagnia assicurativa. Quindi ogni compagnia assicurativa nel valutare l'innovazione, nel valutare questa dinamica che abbiamo appena visto e che ho appena presentato deve tenere conto anche di questi trend e della possibilità che effettivamente ci sia una disintermediazione nel futuro. Io dopo avervi dato e portato questi dati vi lascio gli ulteriori speech della giornata e vi lascio un saluto dell'osservatorio.